Riproduciamo di seguito l'audio articolo di Ascolta la notizia intitolato. Trump. La catastrofe russa in Ucraina non sarebbe mai successa con la mia presidenza. La Russia con me non prese niente, mentre io ho preso le loro tubature. Lo ha detto Donald Trump, parlando a Delaware, Ohio. L'ex presidente ha dichiarato che i peggiori presidenti della storia messi insieme, non avrebbero potuto fare più danni di Joe Biden. Trump ha poi detto che il presidente russo Vladimir Putin è un «uomo ragionevole», e ha aggiunto che «questa violenza è senza senso». La catastrofe russa in Ucraina non sarebbe mai successa con la presidenza Trump. 0.0.0 possibilità. Lui, Vladimir Putin, n.d.r., non ha fatto niente per quattro anni, ci sarà un motivo, ha detto ancora Trump, parlando in Ohio ai suoi sostenitori. «Sotto Bush la Russia invase la Georgia sotto Obama la Russia invase la Crimea. Nei miei quattro anni, la Russia non ha fatto niente», ha aggiunto.